Io sono in assoluta continuità per quanto riguarda la direzione precedente e quindi vorrei ringraziare ovviamente subentrando dopo anche un certo lasso di tempo alla direttrice precedente, alla dottoressa degli Innocenti e vorrei in questa occasione anche ringraziare i colleghi della direzione museale regionale che sono il dottor Mercuri e la dottoressa Lucchese per il grande lavoro svolto. Quello che intendo dire è che il museo è una macchina perfettamente funzionante grazie al lavoro di chi mi ha preceduto e allo staff che lavora quotidianamente all'interno del museo che qui intendo ringraziare e quello che vorrei in futuro renderla una macchina usando questa metafora in qualche modo ancora più performante. Cioè cercare di dare il mio contributo per quanto riguarda uno sviluppo della mission del museo come centro di elaborazione culturale, come centro di ricerca, ovviamente sempre aperto al territorio e sempre quindi con una linea di riferimento e di contatto con il territorio e la città di Taranto. Perché il museo costituisce un'eccellenza della città di Taranto, un'eccellenza di cui i tarantini devono andare fieri e quindi per me è sempre più importante stabilire un nesso, un collegamento con le istanze della città. E' importante che i tarantini sempre più scoprano il museo, lo vivano, lo frequentino. I primi che ho conosciuto sono stati gli studenti di una scuola che ho incontrato e ho invitato a ritornare con le loro famiglie, quindi il dialogo con il territorio è un dialogo fondamentale e fondante per un museo, che è un museo del territorio in cui il nostro passato deve essere al servizio della costruzione del futuro.